Al via un mese di disagi sulla variante Aurelia per le opere di lavoro frattore del lago e l'imboccatura dell'autostrada, lavori che riguardano il rifacimento dell'asfalto che era in pessime condizioni. La carreggiata è danneggiata in più punti con la presenza di buche, soprattutto in direzione sud. L'ANAS sta investendo diversi soldi per cercare di rendere sicura questa arteria che è molto transitata, quindi inevitabile i disagi per i tanti automobilisti, ma l'intervento era importante per evitare i pericoli. La circolazione ha doppio senso di marcia su una sola carreggiata, ci sono restringimenti e corsie che verranno chiuse per permettere i lavori. Gli svincoli di via Reggio Sud e Bicchio Cotone saranno temporaneamente inaccessibili in ingresso e in uscita, un mese in cui potranno essere utilizzate le uscite di Marina di Torre del Lago e quella di via Reggio Nord che rimangono invariate.